La norma che riguarda lo stanziamento di 52 milioni di euro relativa all'aggiornamento del contratto dei dipendenti regionali 19-21. Quindi il governo Musumeci che si intesta a questo importante risultato è attenzione nei confronti del comparto dei dipendenti. Accanto a questa norma c'è anche un risultato significativo sulla razionalizzazione della dotazione organica. La regione siciliana si allinea alle regioni d'Italia sulla dotazione organica pronta in rispetto all'accordo fatto con lo Stato e pronti a modificare questo accordo con lo Stato a fare nuovi concorsi. Nuovi concorsi per nuove intelligenze e competenze da portare dentro l'amministrazione regionale.